Riaprirà i battenti a Silvi dopo due anni di chiusura il Centro Sportivo Universo. Il 6 settembre ci sarà una festa inaugurale che vedrà coinvolti gli oltre 40 dipendenti che dal gennaio 2019 sono fermi a causa del contenzioso sollevato dal precedente gestore la società Universo Sport e Wellness di Roma e la ditta di Eugenio SRL, proprietà del centro. In un primo momento riapriranno la piscina e la palestra, presumibilmente dal mese di ottobre, tutti quei servizi legati alla cura della persona come centro benessere e saune. Insomma, lavoratori di questo settore che hanno sofferto molto la chiusura ritornano finalmente a riprendere le proprie attività, il proprio ritmo nell'ambito di quelle che sono le attività di palestra e piscina. Però è anche importante per questa area, per questo tipo di attività che finalmente potrà intercettare di nuovo un'utenza che va dalla disabilità fino ai bambini, fino a chi ha bisogno di attività specifiche per svolgere così di nuovo serenamente un'attività sportiva che in un posto come questo, come potete vedere, non può che essere promossa e diventa un fattore veramente importante. Quanto è stato difficile superare questi anni di pandemia e di chiusura? Guardi, la cosa più difficile è stata adeguarsi ad un tipo di mentalità che è un po' diversa da quella che di solito porta l'utenza dentro un impianto come questo, cioè un'utenza che prima veniva qui in modo disteso gaio allegro, oggi invece deve assolutamente attenersi a delle regole e le disposizioni governative in materia di anticontagio. La speranza è che sia la definitiva ripartenza. Guardi, noi siamo convinti di questo, anche perché nella più completa trasparenza quello che noi vogliamo dare è un servizio e un'offerta che sia di qualità, che effettivamente supporti anche un tipo di vita, di relazione, quindi di rapporti di questo comprensorio, di questa area che è importante, che voglia far diventare questo posto di destinazione un punto di riferimento riconoscibile proprio per queste caratteristiche, cioè la qualità, il servizio e la professionalità che riesce ad offrire.